La spunta alla Juve, tre punti importantissimi, davvero fondamentali per la classifica dei bianconeri, vince a San Siro grazie a un autorete di Krunic, al rosso di ciao e al cinismo Juve ragazzi, diciamolo così. Andiamo con ordine, non prima di avervi salutato, vi è invitato a iscrivervi al canale, attivare il campanile, mettere mi piace, condividere, commentare, per chi non mi conoscesse sono Montoneer, parlo di Serie A, Serie B, Calcio Internazionale, Nazionale, eccetera, 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 quindi è gratis, non mi costa nulla, lasciate un'iscrizione al canale e attivate la campanellina, vi ringrazio, commentate, rispondo a tutti con molto piacere. Andiamo subito alla cronaca della partita con Szczesny che compie veramente un miracolo su Giroud, con Leao che fa una magia, serve davvero un ottimo pallone per i francesi, il portiere della Juve fa davvero la parata da scuola calcio, una parata da vedere e rivedere per chi vuole fare il portiere da grande, diciamo così, ma anche per chi lo sta facendo ora, tante critiche per questo portiere che oggi davvero ha fatto i miracoli, ma ha fatto questo miracolo, ma arriviamo a qualcun altro dopo che ha fatto veramente i miracoli oggi, tra l'altro c'è stata anche in precedenza un'occasione buona di Reinders con la palla di poco alta, Rabiot poi riceve in verticale, da Costici il francese scarica un gran sinistro ma termina di poco a lato. Il Milan fa la partita nettamente nel primo tempo, la Juve è chiusa dietro, praticamente 10 uomini dietro la riga del centrocampo, però è pronta a sfruttare le ripartenze. Poi arriva l'episodio, l'episodio che cambia la partita, l'episodio che svolta il match perché c'è questa trattenuta prateale di Ciao su Kin, rosso diretto, ineccepibile secondo me, vista la chiara occasione da gol. Pioli poi subito corre ai ripari, leva Pulisic per Calulo, appunto per chiudere il buco dietro causato dall'espulsione. Occasione enorme a un metro dalla porta per Kin che io non capisco come fa a sbagliare un gol del genere ma andiamo anche qui con ordine, riceve una super palla da Rabiot ma davvero da un metro tira fuori. Io non finirò mai di dire come questo sopravvalutato giocatore continua a giocare in Serie A che secondo me farebbe fatica a giocare in Serie B. È un mio parere personale, non ho nulla contro lui, poverino, non mi ha fatto niente, tanto impegno ma è davvero scarso, ragazzi, sbaglia dei gol delle volte, boh, e ho i follower juventini, gli iscritti juventini che la pensano come me, fa davvero degli errori, madonna, quello è un errore da matita più che rossa. Secondo tempo che vede nessun cambio nell'intervallo, ovviamente c'è stato quello che vi dicevo prima di Pulisic per Calulu, di Calulu per Pulisic, scusate, nessun cambio appunto da parte di nessuno dei due allenatori, Non succede nulla fino al cinquantaseesimo dove entrano Cambiaso e Vlaovic. Il Milan che comunque, nonostante l'inferiorità numerica, riesce a mettere in difficoltà la Juve. Allegri tenta comunque una scossa appunto per cercare di cambiare il match, inserendo appunto Cambiaso e Vlaovic che poi sul finale si riveleranno importantissimi, ma dovranno fare i conti con Super Mirante, ma ci arrivo tempo al tempo la Juve che comunque fa fatica, nonostante l'uomo in più, a costruire occasioni, ma poi arriva il gol. L'arriva il gol con Locatelli che trova l'1-0 grazie a una deviazione non voluta sicuramente, ma di Krunic da poco, tra l'altro entrato in campo dopo tanto, spiazza Mirante che non ci può fare nulla perché la deviazione ha sicuramente ingannato il portiere. La Juve gestisce, poi c'è un'azione corale della Juve che finalmente fa valere l'uomo in più, manca però l'ultimo passaggio a McKennie che la mette in mezzo, ma non c'è nessuno. McKennie appunto mette questo pallone importante in mezzo, ma non c'è nessuno. Al settantottesimo entrano Chiesa e Julesen, il pupillo della difesa bianconera primavera da Juventus next gen, come volete. Questo è un bel giocatorino, davvero questo è un bel giocatorino. Entra, nonostante l'emozione dell'esordio in Serie A, gioca anche bene, veramente un bel prospetto. La Juve davvero a livello giovanile tira fuori dei gioiellini. Per la Juve entrano appunto Chiesa e Julesen, escono Milik e Gatti, per il Milan invece entrano Kier e Romero al posto di Calabria e Renders. Vlaovic di sinistro calciano a bordata, ma Mirante, nonostante l'età avanzata, i 40 anni, quindi tanta stima per lui, visto che non siamo neanche coetanei perché abbiamo un po' di diani di differenza, risponde davvero con un gran riflesso. Gran bella parata anche di Mirante, come vi dicevo prima appunto ha risposto all'ottima parata di Chiesa inizio match, nel primo tempo appunto su Giroud. Ancora Mirante, fa due miracoli in sequenza, prima su Cambiasi e poi su Vlaovic al 91esimo. Vedete, quando vi ho detto, si riveleranno poi importanti verso la fine della partita. Davvero che prestazione del terzo portiere dei rossoneri, perché chiamato in causa dopo tanto tempo che non giocava, ha aspettato il suo momento e ha risposto ultra presente. Davvero il Milan quest'anno ha tre portieri stravaloghi. Dopo sedia tatarusano, avere in porta gente come Maignan, Sportiello, che voi ben capite, che conosco bene e soprattutto questo super Mirante, davvero che si è rivelato una sorpresa perché dopo così tanto in tanti temevano che comunque fosse arrugginito. Invece Super Mirante salva il Milan da un gol in più, diciamo così. Poi c'è Allegri che fa lo show, si leva la giacca, si leva la cravatta, sbraita, sbrocca, urla coi suoi, non solo coi suoi, coi suoi perché gli dice che devono tenere di più la palla, che devono gestirla di più, che non devono correre rischi. Invece rischiano col fraseggio di perdere la palla, di non tenerla di più nei piedi. Insomma è un Allegri davvero scatenato, che urla, che si scatena, che fa lo spettacolo, diciamo. Infatti alla fine si parla quasi più di Allegri nella cronaca che della partita stessa. E a Milan che dopo crea veramente poco e niente, dopo il gol del vantaggio della Juve, è un Milan che comunque era rimasto in partita bene fino a quel momento, è un Milan che non ha, probabilmente senza l'espulsione di Ciao, probabilmente sarebbe stata un'altra partita. Credo che qui anche gli Juventini siano d'accordo con me. Ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi, date una campanella, mettete un mi piace, condividere, commentare, rispondo a tutti. Mi raccomando, lasciate se vi va anche un bel like. Grazie a tutti quelli che vorranno andare a vedere anche il video di Atalanta-Genoa che ho fatto oggi. Ci vediamo poi domani, dopo domani, con il recap di Serie A, dopo domani, perché domani ci sono altre partite di Serie A. Vi abbraccio di cuore a vostro monta, buon lunedì, buon inizio settimana. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!